Anticipazione Bittersweet, trama puntate, giovedì 8 agosto 2019 Larissa tra i due coniugi viene sedata e Najli riesce a far addormentare Burut, portandola a casa dell'architetto. In quel frangente Ferit si sfoga con la chef e in lacrime si definisce sconvolto per la sua scoperta. Najli prova a consolarlo con delle bellissime parole, ma ci riesce solo in parte. Denis è fuori di sé e convinto che il bimbo viva insieme all'assassino dei suoi genitori. Intanto Akan prova a giocare d'astuzia e fa uccidere i due sicari che aveva pagato per manipolare l'automobile su cui viaggiavano la sorella di Ferit e il cognato. In questo modo dovrebbero sparire tutte le prove. Al contempo Najli ha dei clienti molto importanti al ristorante e dà il meglio per cucinare dei piatti molto buoni. Un cameriere apparentemente ingaggiato da Akan mette alcune sostanze nocive in tutti i piatti. Così i clienti fanno molta fatica a consumare il pasto e dicono tutto il peggio possibile della chef. Demet fa una proposta sconcertante a Denis. Lui deve dare tutte le sue quote in cambio della custodia del bambino. Il musicista resta sconvolto e non sa cosa rispondere. La questione è un'apertura, la questa domanda è un'apertura, la questa tua parte in campo che ha trovato un po' nonيرة. La assimilità è una propostaache che aveva alcun stranze di pensato.